Dal 10 agosto in Toscana anche i pediatri di libera scelta entrano in campo nella campagna vaccinale contro il Covid-19. Grazie a un accordo integrativo firmato in regione dalle sigle sindacali FIMP e SIMPEF, i pediatri potranno vaccinare i ragazzi d'età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16. Saranno gli stessi pediatri a chiamare le famiglie dei loro giovani assistiti per invitarli a vaccinare i figli e il richiamo sarà fissato 21 giorni dopo la prima dose. Obiettivo completare la copertura vaccinale degli adolescenti prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Questo è un fatto di straordinaria rilevanza per le prossime settimane perché noi vogliamo che la scuola riparta in presenza. Per far questo è importante che il maggior numero di ragazze e ragazze sia vaccinato e quindi stamani mattina abbiamo definito l'intesa con i pediatri e dalla prossima settimana partirà il loro lavoro in affiancamento agli hub per vaccinare appunto le ragazze e i ragazzi e anche i medici di base che hanno in carico una parte appunto dei ragazzi e delle ragazze si impegneranno da dopoferragosto sostanzialmente per accrescere la vaccinazione delle fasce più giovani della popolazione. Firmata in Regione anche un'altra intesa che nell'ambito delle convenzioni dei medici di medicina generale garantisce l'adesione dei medici di famiglia ai nuovi modelli organizzativi configurati dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni ha definito l'intesa un modo per dare giusto significato a quel lavoro che ha portato soprattutto nella prima fase i medici di famiglia a essere protagonisti di quello che poi è oggi un elemento distintivo della Regione Toscana, la capacità di vaccinazione delle persone più fragili, delle persone dagli over 80 alle persone che hanno patologie che le portano a essere particolarmente fragili e fragili, su cui la Toscana si attesta fra in assoluto le migliori regioni italiane. In Toscana, grazie al contributo dei medici di famiglia, ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid del 96,8% degli ultraottantenni. Grazie a tutti.